Devo dire che sono particolarmente contenta di essere qui perché proprio quando eravamo in campagna elettorale abbiamo lanciato questo progetto e oggi lo vediamo nascere completamente, quindi questo si iscrive all'interno di un percorso nel quale noi continuiamo a dire che le nostre non sono promesse, sono impegni ci eravamo impegnati a realizzare questo sito grazie alla capacità di Carlo, di Alfonso, di Luigi di tutti coloro che ci hanno lavorato, oggi è vero, non c'è e noi sindaci siamo molto contenti perché fino adesso abbiamo cercato di condividere al meglio quelle che sono un po' le buone pratiche che ciascuno di noi stava adottando, però sicuramente in questo modo sarà molto più facile e vi consentirete di dire che visto che il sito è aperto a tutti sarà anche bello sfidare le altre amministrazioni a copiarci, insomma non vogliamo tenere questi successi per noi, se ritenete che ci siano cose interessanti copiabili perché per noi è importante insomma che pian piano tutte le città possano rinascere chiaramente Noa era una città e lo è tuttora, una città piena di difficoltà, estremamente immobile come possiamo dire, immobile dal punto di vista della macchina, immobile dal punto di vista degli interventi quindi rimettere in funzione la macchina è quasi come spingere un treno ma in nulla ci vuole tempo e noi in tempo praticamente non ce lo abbiamo perché comunque i bisogni della città e i bisogni dei cittadini sono tanti, quindi ci stiamo sbrigando a fare tutto quello che serve sicuramente uno dei risultati più importanti è quello relativo al bilancio e ne parlo perché mi è stato detto che per un comune è normale approvare il bilancio nei termini di legge diciamo che se così fosse, se questa fosse la normalità il governo non prorogherebbe ogni anno il termine per l'occupazione, è evidente che non è normale, noi ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti e ci siamo anche presi 15 milioni di euro di spazi finanziari in più che a questa città servono come l'aria per cui siamo ben contenti di averlo fatto e che cosa abbiamo fatto? abbiamo iniziato con un taglio di stretti, circa 40 milioni di euro in meno per il funzionamento della macchina amministrativa 28 milioni di euro in più per il sociale, avevamo detto, ci eravamo impegnati in campagna elettorale tra uno dei nostri punti importanti era quello che sintetizzavamo con lo slogan nessuno deve essere lasciato indietro perché il lato sociale e tutte le problematiche dei cittadini che vanno dall'assistenza domiciliare, l'assistenza ai minori, l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati gli anziani, insomma sono tutti temi che devono essere presidiati e che per troppo anni e per troppo tempo hanno visto, almeno a Roma, crescere a disvisura le liste d'attesa senza poi una vera e propria soddisfazione della domanda quindi riuscire a investire così subito già 28 milioni di euro in più per noi è stato un grandissimo successo chiaramente si tratta di un piccolissimo step fatto nei primi sei mesi nei quali tagli agli sprechi sono stati sicuramente contenuti ma insomma il lavoro è grosso e il grosso è da fare ancora abbiamo investito circa 430 milioni di euro nei trasporti che come sapete è un punto estremamente importante romanzi hanno detto che i trasporti, quello sui trasporti è diciamo il loro punto principale per cui 430 milioni di euro di investimenti nel triempio significa da un lato investire di più sui mezzi pubblici dall'altro comunque investire su un concetto diverso di mobilità che è la mobilità sostenibile quindi abbiamo corsie preferenziali, distecipabili, nodi di scambio, abbiamo tantissime misure da mettere in campo e soprattutto grazie all'approvazione del bilancio e del carri di legge tutto questo riusciremo a farlo con una corretta programmazione degli interventi, cosa che sino ad oggi era presto che impossibile ancora estremamente importante per noi è stata la riduzione della tari di circa 1,6% avevamo, c'eravamo impegnati a diminuire un po' la pressione fiscale come tutti sapete Roma ha la pressione fiscale più alta di tutte le città ma grazie sicuramente anche alla gestione commissariale nella quale sono confluite nel 2008 sono confluite tutti i debiti che la città aveva accumulato nel pregresso piano piano noi stiamo cercando di diminuire questa pressione è evidente che questo è un piccolo e primissimo passo, ne seguiranno altre ancora cose sulle quali ci stiamo impegnando è l'abusivismo e il contrasto o anche l'abusivismo commerciale, l'abusivismo ricettivo come sapete a Roma ci sono oltre 6.000 strutture turistiche abusive quindi sicuramente riuscire a contrastare questa piaga vera e propria non solo riporterà la legalità di terra a questo settore ma darà molte più risorse a Roma, risorse che oggi non incassa stiamo spingendo molto anche sul lato dell'innovazione tecnologica innovazione tecnologica che consente una maggiore trasparenza quindi una maggiore tracciabilità e soprattutto permette ai cittadini di avere un vero e proprio controllo diffuso di quello che è l'operato dell'amministrazione cosa che in mancanza di procedure trasparenti, procedure pubbliche e inconsultabili anche in rete è evidente che non può avvenire stiamo ricostruendo un po' tutto il settore della cultura che era frammentato tra varie società, aziende speciali, fondazioni per cui anche lì stiamo mettendo mani sicuramente il tema delle buche che stanno sollevato e che in campagna elettorale ha costituito uno dei nodi centrali pare così insomma del programma di tutti i candidati sindaci è stato da noi affrontato in maniera molto seria ma non ricorrendo agli strumenti diciamo degli affidamenti diretti bensì riprogrammando le gare le gare sono state fatte, sono state in parte aggiudicate a febbraio inizieranno, stanno già iniziando gli interventi tra l'altro breve lanceremo una pagina nella quale sarà possibile controllare attraverso un testatore collocato sulla mappa anche tutti gli interventi allo stato di esecuzione, allo stato di avanzamento lavori e anche questo ci consente una maggiore vicinanza con i cittadini e un controllo da parte degli stessi su quello che stiamo facendo sulle politiche abitative è sicuramente un tema molto sentito a Roma stiamo intervenendo mettendo mani su un settore che è un delirio permettetemi di sintetizzare così dove ci sono tantissimi strumenti che si sono accavallati nel tempo e iniziamo subito a chiudere progressivamente quelli che vengono definiti casi centri di assistenza allogiativa temporanea e a convertirli con invece buono casa sono praticamente dei contributi all'affitto per cui anche lì si piano piano bisogna mettere mano a tutti i settori e chiaramente il fattore tempo è determinante perché ci rendiamo conto che le emergenze sono tante i bisogni dei cittadini sono pressanti però allo stesso tempo per fare le cose per bene perché questo è importante per fare le cose per bene ci vuole tempo serve una programmazione e soprattutto servono gli interventi strutturali facchi a 360 gradi senza guardare solamente un aspetto e tra l'altro nel resto quindi le politiche abitative, la cultura, gli appalti vanno vestiti nel loro complesso e va rimessa in moto una macchina ancora sul lato del decoro abbiamo avviato che sembrano cose normali però prima non c'erano il piano catitoie, quindi una revisione di tutte le catitoie i domini, moltissimi sono per esempio ostruiti per cui chiaramente le strade si allagano perché l'adunzione in forma è rotta e nessuno ci ha mai pensato il piano foglio, quindi bisogna pulire le strade magari cercando di coordinare gli interventi rimuovendo le strade cioè ci sono tante piccole cose che fanno parte dell'ordinaria amministrazione però fino ad oggi erano lasciate un po' così come capitava sulla scuola stiamo intervenendo in maniera massiccia siamo arrivati e praticamente ci siamo accorti che la normativa l'adeguimento alla normativa di incendio nella maggior parte delle nostre scuole non era stato fatto quindi abbiamo contenuto un prestito da cassa dei cosi di prestiti di 47 milioni di euro per riedeguare gli impianti alla normativa così come abbiamo investito per adesso una somma molto piccola ma verrà aumentata a 2 milioni di euro sulla verifica della vulnerabilità antisismica delle scuole nessuno l'aveva mai fatto ripeto, sono tante piccole cose che noi ci concentriamo e sono però cose che la città chiede e piano piano intervenendo così su tutti i settori andando a riparare gravissime carenze del passato a nostro avviso possiamo far rivivere le nostre città grazie